Guardare curiosi nelle vetrine. Chi non si divertirebbe? Di sfuggita con lo sguardo si pilucca del cioccolato. Qui ti interessano dei cappelli, là delle cravate, da un'altra parte delle salsicce viennesi o francofortesi. Ogni tanto si ottengono gratis cose bellissime, come ad esempio la vista di riproduzioni di famosi artisti. Attraenti mazzetti di viole mammole stanno con il loro colore gentile accanto alle arance. I nostri occhi ci procurano un mucchio di gioia. Nelle botteghe di antiquari sono esposte delle battaglie degli svizzeri. Si rimane stupiti per quel che vi succedeva di brutto. La possibilità di godersi la vita dal lato migliore deve essere conquistata con le unghie e con i denti. Scorgo qualcosa di sostanzioso, come il formaggio Emmental e il Grierzer. I negozi di moda fanno pensare ai vantaggi di un bel aspetto. Essere ben vestiti non può mai far male. Non mi sono mangiato già spesso in una panetteria sulla Arbergergasse un fagottino di mela? Le caffetterie seducono il passante frettoloso con dolcetti vari e frittelle. Osservare attentamente corsini o roba del genere non è fine per un signore, ma a un giornalista sarà concesso. I fazzoletti da naso per le ragazze sono ricamati in modo delizioso. Per colpa di un fazzoletto Otello fece una scenata a sua moglie. Già per tempo mi venne detto che non si devono regalare scarpe alle signore. Convenienza vuole che se le comperino da sé. La gioielleria brillano di anelli, fermaglie e collane. Le cartolerie tengono sotto i tuoi occhi l'utilità di scrivere di tanto in tanto una lettera. Ultimamente ho visto da un rigattiere un piccolo Cristo in avorio, le braccia tese orizzontalmente, i piedi bucati. Qui ancora una volta ho soltanto fatto un abbozzo. Veramente sarei tenuto a qualcosa di più. Un angelo così fa bene se aspetta finché non gli si comunichi che si ha bisogno di lui. Ciò dura talvolta più a lungo di quanto egli presuma. Ma anche lui deve appunto moderarsi. Non può pensare di essere insostituibile. Non mi piacerebbe essere colui che ho fatto angelo. Io l'ho divinizzato perché non mi incontri più da nessuna parte, perché sia immutabile come un'immagine e io possa guardarla sempre, secondo il mio bisogno e il mio piacere, traendo coraggio dalla sua vista. Mi fa quasi pena. L'angelo ha creduto che io fossi curioso, che gli sarei corso dietro, mentre in un certo senso io l'ho in tasca, è come un nastro attorno alla fronte. Io non vado più da lui. Il suo valore mi circonda. Tutto intorno mi vedo illuminato dalla sua luce. Chi è stato capace di dare, ha saputo anche prendere. Occorre esercitare entrambe le cose. Egli è sorto dalla compassione. Eppure può accadere che io, l'improrante, giochi con lui. Egli dubita, ha paura. Io ora credo, ora non credo, ed egli deve sopportarlo, povero caro. Ha un aspetto serio, sebbene non ne abbia alcun diritto. Ha una bella moglie, e perciò dovrebbe avere un aspetto gaio. Io, che sono senza una bella moglie, usurpo la gaiezza. L'uomo che ha una bella moglie mi rivolge sempre lo sguardo, come volesse mettermi insistentemente in guardia dalle belle donne. Quando lo vedo mi dico Toh, non arriva l'uomo di cui mi è stato detto che ha una bella moglie. Non voglio contestare che lui mi interessa. Chi non rimarrebbe conquistato da una persona che si presenta associata a un'altra, e questa deve essere bella, come mi è stato riferito. Se avessi una bella moglie, forse sarei anch'io pieno di preoccupazioni, il bello merita che a cagion sua si rinunci alla spensieratezza. Quando lui mi vede, io faccio come se fosse proprio così, che mi ritenga interessato, quasi di certo, e una volta potrebbe invitarmi dalla sua bella moglie, ma probabilmente non me lo concede. Il modo in cui ci guardiamo è, quanto all'osservare, un vero canto stropicciato. Ne pronuncia parola lui che ha una bella moglie a cui io credo, né io che non posso far credere a nessuno di avere una bella moglie. Lui è per me interessante perché ho udito di sua moglie. Io sono per lui privo di interesse perché non lo invito da una moglie che non ho. ma quel che ancora non è un giorno può forse capitare. Ultimamente non mi ha più rivolto lo sguardo come se la sua bella moglie si fosse espressa con freddezza nei miei riguardi, cosa che non può aver fatto perché non mi conosce. Sacher Masoch venne al mondo in Gallizia, andò di certo a scuola negli anni giovanili, si formò come scrittore, rimase come tale non privo di successo ma per questo rese sua moglie infelice. Non disponendo di una cultura eccessiva creò novelle come signorina direttrice. Nella Venere in Pelliccia il più noto dei suoi libri assai detti in passato l'amante si contraddistingue nel portare pacchi ha un bell'aspetto ma per disgrazia è troppo innamorato quindi ben provvisto di debolezze e povero di energie. Con grande destrezza e col sorriso più estasiato sulle labbra aiuta la sua amata che stima qualsiasi altro allo stesso grado in cui disprezza il suo aiutante a prendere posto nella carrozza di prima classe mentre lui si reca con vera volutà in un compartimento di classe inferiore. Tagli e simili vicende ci ammanisce il nostro autore con un piacere visibilmente eccessivo. Il suo destino vuole che la sua stessa scrittura si burli di lui. grazie a tutti. Grazie.